Avvocataus, eccoci qua, siamo arrivati a Via dei Condotti, Roma, chiaramente, Avvocataus, sticchettacca e bomba a mano, a Via dei Condotti, Roma, ieri io sono stata a fare, guarda che belle porsette, avvocati i capelli down, adesso ci rifaremo gli occhi, io e sempre Raimonda, saluta, ciao, allora io e Raimonda, Avvocataus, ci rifaremo gli occhi a Via dei Condotti, purtroppo ci rifaremo solo gli occhi perché qua non è che ci si può dire, ah sto bene, insomma, possiamo comprare più di tanto, anzi quasi niente, a meno che due castagnole, ce le, ce le, a porco dei capelli down, ce le, come si dice, porco dei capelli, ecco le castagnole ce le possiamo permettere, anche sì, ecco, Remo le vuoi? Un po' di capelli down, le vuoi? Ce le mangiamo dopo magari? Va bene, allora noi ci inoltriamo, vogliamo andare con la carrozza? Avvocataus, vogliamo fare questo sogno, andare con la carrozza fino a piazza, vuoi andare con la carrozza, Avvocataus, ci siamo divertite, portate i capelli down, questi giorni, ci siamo divertiti tantissimo e siamo state benissimo, oggi spero di fare una bella giornata e poi saremo, insomma, in giro, piazza di Spagna, piazza Navona e tutto quanto e stasera andiamo a mangiare in un ristorante un po' particolare, a poca di capelli down, io vi do un bacione grande e vi saluto, due giorni ci siamo sentiti perché, insomma, stavo facendo questa cosa, mi sono un po' stancata, però adesso sto bene, che dite, prendo la carrozza, il cavallo, io non ci sono mai potuta salire sui cavalli, portate i capelli down, perché facendo i tic, una volta un cavallo, io stavo sopra il cavallo, il cavallo chiaramente gli dà i segnali con le gambe, questo sembra finto, praticamente gli dà i segnali con le gambe e con le braccia, allora io facendo così con le gambe, facendo così con le braccia, il cavallo si è imbizzarrito e sono caduta, portate i capelli down, questo invece quando è bello il cavallo, cavallino vi saluta YouTube, ciao ragazzi, un bacione grande!